Sull'aumento delle indennità di carica della giunta comunale di Racalmuto operata con Delibera il 30 dicembre del 2022 intervengono i consiglieri comunali di opposizione Cinzia Leone, Valentina Zucchetto e Angelo Di Vita che scrivono che bel regalo di fine anno si sono fatti il sindaco e i suoi assessori in un periodo in cui le famiglie e le attività stanno lottando contro gli aumenti di luce, gas e carburante. Chi ci amministra, anziché trovare risorse misure a sostegno dei soggetti economicamente più fragili, ha pensato solamente ad aumentare la propria indennità del 30% per il 2023 e addirittura del 40% per il 2024. Le difficoltà burocratiche e finanziarie che hanno impedito la distribuzione dei buoni e delle ceste alle famiglie bisognose durante le festività natalizie sono state magicamente superate quando si è trattato di rimpinguare le loro tasche. Questi anni di cattiva amministrazione hanno spopolato il nostro paese, lo hanno fatto sprofondare nella desolazione e loro hanno ritenuto opportuno premiarsi con questo aumento che è un'offesa ai problemi dei nostri concittadini. Il paese è sporco, imbruttito, spento, nessuna iniziativa a favore dei giovani, delle persone in difficoltà, dei commercianti, nessun intervento atto a diminuire il costo della spazzatura, impianti sportivi ancora inagibili, Corriera, cittadine, scuolabus fermi da anni, amministratori indifferenti alle richieste d'aiuto di tanti racalmutesi in difficoltà, sempre pronti però a giustificarsi attribuendo la colpa alla mancanza di fondi, al bilancio approvato sempre in ritardo, alle ristrettezze economiche del nostro comune. Sempre per fare quadrare i conti, non hanno mai previsto, nonostante le nostre richieste, una seppur minima diminuzione delle aliquote dei tributi locali. Da questi atti irrispettosi e immorali, noi consiglieri d'opposizione prendiamo fermamente le distanze e condanniamo indignati questa vergogna, concludono la nota i tre consiglieri di minoranza del comune di Racalmuto. Il sindaco Vincenzo Maniglia replica a Lillo Buongiorno, l'indennità del sindaco già nel 2019 viene ridotta al 50% e che inoltre dall'importo calcolato viene poi a fine anno tolta un'imposta aggiuntiva di circa il 25%. L'aumento, come da legge regionale del 25 maggio 2022, prevede un aumento di indennità di 300 euro lordi mensili, dal quale verranno poi decurtate imposte tasse. Queste sono le cifre del contendere. Il gruppo politico di Lillo Buongiorno, che esprime l'assessore Carmelisa Gagliardo in giunta, ritiene che la grave crisi politica ed economica del paese non possa giustificare l'aumento di legge delle indennità degli amministratori, non facendo rilevare che proprio il loro assessore percepisce una indennità piena del 100%. Considero il senso dell'intervento di buongiorno, ribadisce il sindaco, più un attacco politico che economico e allora suggerisco al gruppo di chiedere al loro assessore, oltre alla rinuncia dell'aumento deliberato, la decurtazione volontaria del 50% dell'indennità per uniformarsi a quanto già attuato da inizio mandato dal sindaco. Ciò consentirebbe alle casse comunali un risparmio economico.